Simone Cardelli, una partita sofferta ma una vittoria che ci voleva. Dopo la sconfitta con la Roma, andare subito per i tre punti per chiarire che con quel futboletto anche quest'anno vuole esserci. Esattamente, purtroppo quando riparti sempre da zero, le prime di campionato soprattutto con la Roma che è una squadra rodata, fa tanti anni, la Lega ci può stare. Certo, il risultato è un po' bugiardo ma la sconfitta ci può pure stare. Il Progetim l'avevamo incontrato in Coppa e tutta altra squadra, la Serie A ti cambia proprio, è un'altra mentalità quindi vuol dire che non puoi abbassare la guardia con nessuno. Tre punti fondamentali che fanno sempre morale per un gruppo nuovo. Senti, siete ripartiti da zero come hai detto tu, qualcuna delle colonne dell'anno scorso è rimasta tu per esempio a Liberti e anche Ortame che adesso difende la porta al posto di Caterini. Ci sono giocatori esperti come Musepi e Natalucci, ci sono anche tanti ragazzi, quindi com'è questa nuova organizzazione del futbolette e quanto pensi che può chiaramente ancora migliorare fino a competere per cosa? Abbiamo un nuovo spirito, questo è un punto di partenza, vogliamo creare un nuovo gruppo con una vecchia base e un nuovo gruppo che comunque sono ragazzi forti e soprattutto seri. Abbiamo fatto un discorso all'inizio del campionato, vogliamo gettare delle basi e penso che un po' di partiti di ruotaggio ci possono stare e poi man mano vedremo come vanno le cose, noi puntiamo sempre al massimo risultato.